La felicità che nasce da sentirsi amati ma soprattutto dall'amare. La felicità che non è legata né al benessere economico né al benessere fisico, sì lo so che molti di voi diranno vabbè queste sono le solite chiacchiere che si dicono, so bene anche di certe difficoltà di tipo economico e fisico, però vedete rispetto a me che vi parlo e che quindi sono un parolaio ci sono testimoni che ci insegnano come la felicità si possa vivere anche per esempio su di una carrozzina, come la felicità si possa vivere anche con delle problematiche fisiche, l'essere sordi, l'essere non vedenti, non udenti o la felicità si può vivere anche in una situazione di un non benessere economico, in una situazione di ristrettezza economica. C'è un detto nella nostra saggezza popolare che dice che senza soldi non si canta messa, beh questo è vero fino a un certo punto, perché senza soldi direi io cambiando un po' e parafrasando si può essere felici, certo qualcuno mi dirà però se ce li ho i soldi bene, ma non è tanto l'avere o non avere soldi, ma il problema è il cuore, dove sta il mio cuore? Hai i soldi attaccato ai soldi? Oppure il mio cuore è attaccato alla vita, agli altri, all'amore, alla famiglia, ai valori? Tutto questo secondo me è il problema di fondo. I soldi ci fanno vivere bene quando noi non siamo schiavi dei soldi, ma i soldi ci possono dannare, i soldi sono una brutta bestia, quando invece di avere il cuore abbiamo l'euro o il dollaro o tutto quello che voi volete. Il problema è dove sta il mio cuore? È la stessa problematicità rispetto al lavoro, alla carriera, alla famiglia. Dove sta il mio cuore? Alla famiglia o al lavoro, alla carriera? Dove sta il mio cuore? Alla fraternità, alla chiesa o alla carriera anche ecclesiastica? Dove sta il mio cuore? Perché come ci dice Gesù, laddove sta il tuo cuore lì c'è il tuo tesoro. Allora se il mio cuore è nell'amore e nella famiglia e nel donarmi agli altri e nel servire gli altri, quella è la mia felicità. Il resto, soldi, potere, carriera, mi possono anche rendere o illudere di farmi felice, ma prima o poi se il mio cuore è assolutizzato e schiavo di queste cose, prima o poi emergerà la tristezza, il sentirti vuoto, il sentirti come un fallito o una fallita, l'avere o il ritrovarsi tra le mani della sabbia. Sabbia che prima o poi va via da queste mani e tu ti ritrovi con le mani vuote. E allora meglio ritrovarsi con le mani vuote di soldi, di potere, di protagonismo, di superbia. Meglio ritrovarsi con le mani vuote ma con il cuore pieno di amore, di capacità di farsi dono e tutto questo mi rende felice. Ci vediamo domani, parepio tv, dritto al cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!